salve a tutti amici e benvenuti ad una nuova puntata di bim bum bam bene allora oggi voglio farla in un modo un pochino differente e voglio parlarvi di bollywood allora piccola introduzione qualche sera fa ero con la mia compagna stavamo vedendo una serie su netflix che ci ha lasciato che ci ha fatto innamorare che si chiama non ho mai e questa serie parlava di una famiglia indiana dato che era così interessante come film mi sono detto ma perché non vedere e capire come sono i film bollywoodiani perché ho sempre sentito parlare ho sempre visto qualche scena così in giro per il web mi sono messo su netflix e sono ho scelto un film questo film si chiamava zero l'ho scelto dalla locandina assolutamente e mi sono dovuto fidare anche perché il film e i film che troviamo disponibili su netflix almeno in italia ma penso anche all'estero sono totalmente in lingua indie e sottotitolati quindi anche la fruizione di un film che dovrebbe essere anche spettacolare visivamente totalmente differente rispetto alla fruizione classica ho cominciato a vedere questo film e me ne sono innamorato non parlo tanto della sceneggiatura la storia particolare molto ampia come storia tratta temi anche molto particolari ma visivamente sono rimasto scioccato special modo dagli effetti visivi so che sapevo che in india c'è un'enorme tradizione di film molto ma molto complessi con tanti effetti visivi ma tutto quello che mi è sempre capitato di vedere è sempre stato sembrava tutto molto iper realistico iper 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 finto invece qui le cose che io vedevo e non me ne accorgevo fondamentale questa cosa fondamentale non mi accorgevo degli effetti sono stati fatti davvero benissimo poi certo ci sono quelli la molto scenici quindi si vedono ma volevo andare a parlarne e a mostrarvi qualcosa quindi ho preso il backstage che ho trovato sul web e adesso lo andiamo a vedere insieme lo andiamo a commentare insieme allora la storia parla di questo personaggio che è una tra le altre cose ho scoperto essere un attore importantissimo bollywoodiano che ha statura normale ma all'interno del film è un nano ed è fatto così bene questo questa reinterpretazione del nano come viene riproposta digitalmente che a me sembrava fatta dal vero alla fine poi andando a spulciare un pochino sul web quello che si scopre è che c'è tutta una mistura di tecniche tra ripresa e digitalizzazione con il quale sono state ricostruite gambe braccia insomma ha stato fatto tantissimo lavoro per rendere questo personaggio un nano oltre al fatto che esteticamente il film è davvero fantastico cominciamo dal presupposto che come vi dicevo l'attore è un attore normale quindi ha le proporzioni di un uomo di normale statura ma all'interno del film si vede che ha le proporzioni invece di una persona di bassa statura quindi di un nano quindi le gambe più corte un pochino più tozze le braccia più tozze rispetto invece al busto che è un pochino più largo ci sono tutta una serie di scene dedicate al delle coreografie ballate dove l'attore è in campo largo balla si muove tantissimo all'inizio ho pensato a un approccio simile a quello di alice nel paese delle meraviglie con la regina di cuori con la testa grande e dove praticamente i pletti venivano semplicemente allargati la testa veniva allargata l'attrice veniva mantenuta su un determinato piano prospettico così che in compositing potesse essere allargata la testa invece qui cosa hanno fatto una cosa molto molto interessante hanno costruito tutta una serie di piani per il pavimento vi faccio vedere qualcosa come vedete questi piani questo il piano dove cammina l'attore quello a statura normale l'attore invece che deve essere rimpicciolito hanno due altezze differenti e questi pavimenti venivano costruiti al momento sul set quindi venivano spostati dei blocchi per far camminare gli altri attori sopra così facendo praticamente avendo su due altezze differenti l'attore che doveva essere rimpicciolito gli venivano tagliate le gambe e gli venivano ricostruite digitalmente ma in una maniera fantastica fatti davvero benissimo e quindi così risolviamo il problema della gamba più piccola delle gambe più piccole venivano sono state completamente rianimate in digitale riapplicate al personaggio rimesso il floor quindi il pavimento corretto ricreate tutte le ombre e abbiamo risolto il problema delle gambe odio risolto un parolone mentre per quanto riguarda le braccia hanno fatto un lavoro totalmente differente in alcune parti l'hanno fatto come le gambe quindi hanno ricostruito digitalmente le braccia andandole prima a cancellare e poi a risostituire in altri ambiti invece sono è stata utilizzata invece la stessa tecnica utilizzata per alice nel paese delle meraviglie dove la testa della regina veniva ingrandita in compositing qui vengono deformate spalla e braccia per renderle un pochino più tozze ma quello che rimane che fa rimanere davvero scioccati è la qualità con questo di questo lavoro mentre invece sono tutta un'altra serie di inquadrature che sono state fatte invece con motion control quindi probabilmente con tecno crane uno strumento per la ripresa dove venivano fatte il plate solo solo gli attori attorno solo lui e poi in compositing veniva rimpicciolito ecco per esempio questa è un'altra delle scene incriminate dove lui passeggia con un'attrice normale d'accordo che tra l'altro è sulla sede a rotelle ma come vedete il piano di passeggiate totalmente differente perché questi sono tutti i cubi messi uno accanto all'altro e creano il pavimento normale mentre lui cammina su un pavimento interrato così da avere la stessa altezza l'altezza corretta poi con un po naturalmente di green screen viene ricreato tutta la scenografia perché questa tra le altre cose all'interno del film è molto scenica c'è una parte cantata qui dentro fantastica ballata anche tra le altre cose viene reinserito lui come vedete le gambe sono più lunghe in questo caso lui in questo caso specifico è stato accorciato e strecciato perché era su un piano prospettico corretto quindi sono hanno eliminato una lavorazione un pochino più complessa ma per esempio in quest'altro caso stesso identico approccio c'è l'attrice sulla sede a rotelle su dei cubi più alti mentre lui su dei cubi più in basso qui lui sta ballando tra le altre cose naturalmente fin quando noi perdiamo le gambe questo lavoro di doverle ricostruire non serve ma questo era un enorme piano molto complesso con una un balletto una danza dove i piedi si vedevano e guardate quanto è stato ricostruito in modo così complesso tutti i piani separati ecco quello che vi dicevo la lavorazione delle spalle dove vengono prese e deformate quindi rotoscopate e deformate in una maniera fantastica devo essere sincero e onesto e lui balla e le gambe sono digitali in questo caso qui stesso identico approccio soltanto che lui adesso salta sul tavolino di un bar hanno fatto delle proporzioni in digitale questo qua è lui dal vero hanno proporzionato quello doveva essere lui da piccolino ed ecco che così hanno ricostruito e riproporzionato tutti gli elementi in una maniera devo dire davvero fantastica e c'è anche interazione con altri attori quindi è davvero un lavoro egregio fantastico oltre che estremamente divertente questa per esempio una delle scene più divertenti all'inizio del film dove litiga con il padre e si vede proprio che è molto ma molto più piccolo ed è stato fatto grazie a un gioco di prospettive dove l'attore veniva filmato un pochino più avanti e la madre in quel caso che doveva essere vicino all'attore molto più indietro così che presa sui piani prospettici abbastanza su piani prospettici corretti veniva spostato indietro ed è stato un lavoro fantastico poi naturalmente ci sono un film che parte dal da un paesino indiano molto povero poi finisce nella nasa quindi figuratevi dove arriva questo film davvero la storia è molto molto complessa questo tizio andrà sul marte quindi mi piace immaginare queste sono invece le scene di molto ma molto sceniche del di questa danza all'interno di quella stanza di cui vi facevo presente qui sono stati animati tutti i fumi lui balla con una bambina e come vedete qui è stato fatto il gioco di ritagliare quelle che sono le gambe e andarle ad aggiungere poi in digitale più corte e andare a rimpisciolire lui per farlo risultare corretto in tutto ciò molti ma molta simulazione di fluidi di fumi perché c'è un enorme utilizzo delle delle polveri colorate tutte totalmente digitali mi sembravano totalmente veri mentre vedo il film ma non fa nulla non lo diciamo in giro questa è la lavorazione che è stata fatta e davvero vi posso assicurare che questo film rende tantissimo questo è un altro esempio dove il pavimento è più basso lì qui adesso gli ricostruiranno le gambe perché se non vado errato c'erano le gambe qui tra le altre cose fluidi a manetta molto molto scenico il tutto eccolo totalmente ricostruito in 3d ecco come viene praticamente strecciato per essere per diventare una persona di bassa statura un nano quindi cambiano le quelle che sono le proporzioni tra le braccia e il torso aggiunti i gambi piedi ombre ed ecco la scena finita davvero fantastica posso assicurarvi che scenicamente funziona davvero tantissimo ancora c'è come vi dicevo ci sono tantissime scene con tantissime figurazioni anche in questo specifico caso si è utilizzata la tecnica del pavimento a gradoni e poi ricostruito in digitale e lui si è rirrotoscopato e poi schiacciato con le dovute proporzioni e dove in questo caso per esempio l'acqua non poteva essere riproporzionata correttamente perché lui si lancia dell'acqua in testa è stata fatta in digitale con una simulazione dei fluidi devo dire molto interessante fatta davvero anche bene anche perché essendo tutto un pavimento a scacchi se si lanciava dell'acqua addosso non cadeva sul pavimento e andava un po' sotto un po' sopra quindi è meglio non averla proprio e metterla totalmente in digitale molto più comoda qui invece abbiamo dei colombi totalmente cg fatti davvero molto bene la riproporzione naturalmente sua in compositing questi piccioni animati che interagiscono con lui e col suo parrucchino digitale quindi c'è un'estrema lavorazione su questi shot che vediamo nei grandi film hollywoodiani in quelli hollywoodiani probabilmente vediamo molta più scena tutti molto più scenici anche registicamente invece qui la regia è molto più a favore della storia anche il look molto più da commedia chiamiamola così anche se la fotografia è davvero ben fatta ma gli stili sono completamente differenti quindi quello che vediamo qui è molto complesso è fatto anche molto bene ma sembra sempre un po' inferiore a quelli americani ma semplicemente per una questione di approccio alla fotografia di quello che noi siamo abituati a vedere come film e come messa in scena anche qui stessa cosa c'è un enorme lavoro di compositing e matte painting per mettere questo personaggio all'interno di scene che hanno praticamente delle proporzioni totalmente differenti in questo caso lui molto ripreso in green screen anche perché ci sono delle parti inventate in america se non vado errato e se non sbaglio se ho capito bene sono state comunque girate in india ecco questa è la nasa la ns a r lansar però probabilmente copyright stesso concetto stesso discorso sempre piani differenti lui semplicemente riproporzionato in questo caso perché le volte funzionava comunque bene e poi per il resto devo essere sincero un filmone di fantascienza molto ben costruito in tante cose certo una cosa che mi faccia un po' perplesso che neanche in italia facciamo questo e sono stigri screen questi sono sono l'astolite di buona fattura però cavolo mettete un gris screen gigante basta però vabbè non voglio sindacare beh semplicemente faccio scorrere quello che viene avanti perché qui è tutto molto più normale tra virgolette vorrei dire più scenicamente normale qui quando lui sta per partire per marte mi ripeto la storia molto particolare vi consiglio di vederlo comunque tutte le parti dedicate a questo lancio spaziale sono davvero fatte benissimo quindi chapeau ai 3d artist e vfx artist indiani davvero chapeau si meritano il primo posto nella classifica se non vado errato di chi ha fatto i film con più shot di effetti visivi del video scorso ve lo lascio linkato qui da qualche parte in descrizione questa è la società ve la lascio red chilis vfx in color terminiamo questo video commento agli effetti visivi di un film bollywoodiano mi riprometto di vederne tanti altri me ne cercherò con gli effetti visivi più più particolari e se volete altri commenti a breakdown del genere scrivetemelo qui sotto nei commenti che ne facciamo altri dedicati anche altri tipi di cinema per esempio immagino che so che nel cinema russo ci sono tanti effetti visivi possono andare a prendere qualcosa dal genere del genere ma anche altri film asiatici cinesi giapponesi c'è tantissimo in giro per il web quindi andiamo a pescare i migliori e ce li commentiamo insieme insomma cosa altro dirvi io spero che questo video vi sia piaciuto questo nuovo episodio di bim bum bum se avete domande potete scrivermi qui sotto nei commenti non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la notifica delle campanelle e seguirmi anche su instagram perché lì pubblico un sacco di contenuti interessanti insomma cos'altro dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao 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 ciao